Giovedì 27 ottobre 2022, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregioni Molise. In apertura un servizio, caro Energia, l'SOS del presidente di Confindustria Molise, Vincenzo Longobardi. Per le imprese molisani sarà uno tsunami, il servizio di Pierluigi Borragi. L'aumento dei costi energetici sta mettendo in ginocchio le imprese. In attesa di aiuti arriva l'SOS di Confindustria. Il presidente Vincenzo Longobardi non nasconde le difficoltà di molte associate e teme uno tsunami. Per quello che è la dinamica dei prezzi, quindi la dinamica dei costi che ha l'energia, non solo quello, ma la dinamica dei costi che ha innestato anche le materie prime, sempre sull'onda dell'energia, io temo che ci sarà un numero sicuramente molto superiore che in passato le aziende che rischiano di portare lì in tribunale. Ci sarà uno tsunami? Sì, temo di sì. Intervenire subito e con forza, di fronte a un evento imprevedibile, ma dagli effetti devastanti, servirebbero interventi straordinari e tempestivi. In qualche modo aiutare le aziende a reggere questo passaggio, perché è un passaggio epocale ormai. Non è una situazione molto contingente o che abbiamo già vissuto. È una situazione che non abbiamo mai vissuto. Quindi ci vogliono degli strumenti straordinari e bisogna aiutare le aziende a passarla, perché io vedo ogni giorno, mi trovo di fronte a situazioni veramente imbarazzanti. I prossimi mesi saranno durissimi e senza un sostegno concreto molti potrebbero essere costretti a portare i libri in tribunale, impoverendo ulteriormente un territorio già alle prese con spopolamento e disoccupazione. Servirebbero risorse ingenti non solo per superare la tempesta, ma anche per progettare un futuro diverso caratterizzato dall'autosufficienza energetica. Le prese monosame stanno messe male, come tutto il resto dell'Italia e come il resto anche di buona parte dell'Europa. Cosa chiedono? La risposta è, anzitutto, bisogna cominciare, in parte qualcosa si è fatto, ma bisogna farlo in modo molto più massiccio, facilitare la transizione energetica e quindi finanziare iniziative di autoproduzione di energia. Questo è quello di cui abbiamo bisogno perché c'è un reale problema di liquidità e quindi le aziende non hanno le disponibilità, anche volendo, soprattutto volendo, non hanno le possibilità di finanziare, dico banalmente, impianti fotovoltaici, comunità energetiche, qualunque cosa che sia, e ne abbiamo un disperato bisogno. E poi il bollettino Covid diramato dall'azienda sanitaria regionale. Purtroppo c'è un decesso, un uomo di 81 anni di termoli, due i ricoveri, due dimessi dal reparto di malattie infettive, sette gli attualmente ricoverati all'osocomio del Cardarelli di Campo Basso. Invece sono 96 i nuovi positivi, rispettivamente a 14 al tampone molecolare, 82 invece a quello antigenico, tasso di positività al 16%, 89 invece guariti, gli attualmente positivi 4.782. Passiamo alla nostra rassegna stampa. Come di consueto partendo dal regionale primo piano Molise, in apertura la politica piano operativo Toma apre, osservazioni condivisibili, il commissario e il sub stanno valutando le proposte pervenute, faremo il possibile per accogliere quelle valide, ma vanno cambiate le regole, tavolo politico. Inoltrata la richiesta a Meloni, il presidente Ricci convoca gli amministratori di Isernia. Poi ancora nel centro pagina, Legionella, due casi in pochi giorni, ieri sera all'altra diagnosi un giovane di Campo Basso ricoverato in medicina. Ancora sempre nel centro pagina, di Baggio, io traditore non è così, ho votato e fatto votare Forza Italia. Proprio sul tema andiamo all'interno di primo piano Molise. Caos in Forza Italia, di Baggio respinge le accuse, sono leale, il sottosegretario ha fatto votare il mio partito, la mancata elezione dei candidati l'ha decisa il popolo. Poi ancora, sempre all'interno di primo piano Molise, l'assessore Cotugno a Pestum sarà al nostro fianco, Mibac e Ateneo. Molise di nuovo alla borsa del turismo archeologico, le nostre bellezze in mostra. Torniamo in prima pagina per dare uno sguardo anche alle altre notizie. Nel taglio laterale, Larino investito sulla provinciale, critiche le condizioni del 49enne, rintracciato e sentito dagli inquirenti, l'uomo alla guida dell'auto pirata. E poi, politica da un anno in municipio, Castataro sgombra il campo, la regione non è nei programmi, sanità la madre di tutte le battaglie. L'intervista al sindaco di Isernia per Palazzo Daimo, auspicò un fronte ampio e progressista. Poi il bogliettino, l'abbiamo letto in apertura, un decesso, 96 positivi, influenza parte la campagna vaccinale. Poi ancora il decreto, CIS dei finanziati 5 interventi, fondi dirottati sulla casa di riposo di Tufara. Poi ancora, sempre nel taglio laterale, l'iniziativa Bevi responsabilmente, partnership tra ANM e Commercio per la buona movida. Nel taglio basso, invece, Università degli Studi del Molise, in carica dal 2016, Barbieri resta al vertice della direzione generale. La riconferma fino al 2027, è decisa all'unanimità dal CDA. Poi nel taglio laterale, come sempre, il punto e il servizio sanitario auspicabile, a firma di Bartolomeo Terzano. Nel taglio alto, invece, lo Sport, Coppa Italia, i rossobludi di Dimeo infilano il Triss ai quarti. Adesso li aspetta il Ripalimosani. Coppa Italia, ancora tutto facile per l'Isernia contro i ragazzi del Vairano. Ora, invece, il derby con il Venafro. Coppa Italia, ancora passano Alto Casertano, Boiano Turris e Campomarino. Ci spostiamo adesso sui quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Il nuovo governo, nel taglio alto, tasse e contanti, le scelte di Meloni, le opposizioni, il tetto a 10.000 euro favorisce l'evasore, fiducia in Senato, Berlusconi, ho fondato io il centrodestra. Poi nel taglio laterale, un riferimento alla guerra in Ucraina, il cremelino Italia ostile, Putin, alto rischio di guerra mondiale, minacce a Roma. Poi nel centropagina, Iran, migliaia ai cortei per massa, la polizia spara, protesta in tutto il paese a 40 giorni dall'omicidio della 22enne. Dal Corriere della Sera, diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Repubblica. Fisco, colpo di spugna, questo è il titolo della Repubblica. La Presidente del Consiglio annuncia tregua sulle tasse, condoni e innalzeremo. Innalzamento del tetto del contante, proposta di legge leghista, lo porta a 10 mila euro. Opposizioni più, elusione, criminalità, mai pubblicata la relazione del tesoro sull'evasione, certificava i risultati ottenuti con i controlli digitali. Poi sul tavolo di Meloni, la vendita di Ita, i dossier dei veleni interni. Poi nel centropagina, ancora riferimento alla guerra, esercitazioni atomiche, Putin è la nostra risposta. Nel taglio laterale, invece, i personaggi, Greta Thunberg e l'educazione, come unica via per la salvezza. Dalla Repubblica, diamo uno sguardo anche alla prima pagina del messaggero, sempre la politica nel centropagina. Fiducia al governo Meloni, il tetto al contante salirà, voto compatto al Senato, la Premier sfiducia all'opposizione sul denaro cash. Manifestazioni viminale, serve mediazione, Novax via le multe. e poi ancora manovra, IVA al 5% per i pannonini, latte e tutti i prodotti per l'infanzia. In arrivo le misure per favorire la natalità. Nel taglio laterale, invece, guerra in Ucraina, Putin, rischio di escalation mondiale, l'Italia ostile, dichiara. E poi ancora, sempre nel taglio laterale, Rigopiano, 15 stop, il processo è fermo, sprecati sei anni. Uno sciopero in aula scatena la rabbia dei parenti delle 29 vittime dell'albergo. dal messaggero, diamo uno sguardo anche alla prima pagina del tempo. Governo operativo, ora si fa sul serio. Meloni in cassa, la fiducia anche al Senato, priorità energetta, aglio tasse. Dal Cavaliere, investitura ufficiale, ha vinto la coalizione, che ho inventato io. Poi, resta il nodo, sottosegretari e viceministri, poi subito le cose concrete nel centro pagina. Poi, Renzi a Palazzo Madama, asfalta il Partito Democratico e strizza l'occhio a Giorgia. Ancora, sempre nel centro pagina, un milardo di dubbi su Pfizer. La società sarebbe indagata in Italia, profitti nascosti e trasferimenti all'estero. Ancora, allarme col diretti, senza pioggia, a rischio grano, kiwi e carciofi. Nel taglio laterale, invece, la proposta leghista, limite del contante alzato, fino a quota 10 mila euro. Pugno duro del ministro sulle ONG, la linea di piante e dosi stop navi nel Mediterraneo. Dal tempo, ci spostiamo adesso sul fatto quotidiano. Ancora la politica nel centro pagina. Regalo a Evasori e Mafia, e Bavaglio su Berlusconi, e dell'Utria al Senato. Fiducia al governo Meloni, con 115 sì, 79 no, e 5 astenuti, Giorgiamente, subito smentita, Azelkesha 10 mila, e nega l'assista all'evasione. La russa spegne, Scarpinato, che ricorda i rapporti di Silvio e Marcello, con Cosa Nostra. Poi, nel taglio basso, invece, Mosca, e la sfida atomica, Putin, la guerra mondiale, è vicina, e ancora, senza norma transitoria, la lettera, a nordio, di 26 PG, la cartabbia paralizza le procure. Dal fatto quotidiano, diamo uno sguardo, anche alla prima pagina, della verità, niente scherzi, sul covid, il titolo, del quotidiano, la Meloni, al Senato, sì, è scambiata la scienza, si è scambiata la scienza, con la religione, chi ci dava dei criminali, scopre che Green Pass, ha calpestato diritti costituzionali, benvenuti, proprio per questo, la commissione di inchiesta, non dovrebbe indagare, soltanto, sulla cresta delle mascherine, ma soprattutto, sugli errori, e sulle bale, di questi ultimi due anni, e poi ancora, il governo vuole, alborire le multe, ai non vaccinati, ora, riporti il servizio, medici, ed infermieri, poi, nel centro pagina, l'Unione Europea insiste, con la scusa del verde, ci aumenterà, ancora la bolletta, ancora sempre nel centro pagina, fan degli idranti, contro i portuali, piangono per i violenti, della sapienza, la sinistra grida, al fascismo, perché la polizia, impiedito, e degli intolleranti, di imporre un bavaglio, ma applaudiva, la repressione, di pacifici operai, che rivendicavano, un diritto, dalla verità, diamo uno sguardo adesso, anche alla prima pagina, del manifesto, nel centro pagina, l'Iran, furesta, a 40 giorni, dall'omicidio, di Masamini, migliaia di iraniani, commemorano la giovane, è la prima scintilla, della rivolta, la polizia, apre il fuoco sulla folla, Teheran, approfitta, dell'attentato, alla moschea, di Shiraz, per accusare, i manifestanti, poi nel taglio alto, la politica, nazionale, Meloni al senato, fa un comizio, contro le opposizioni, 115 sia alla fiducia, al governo, ma sulle barricate, poi nel taglio basso, il milite ignoto, esercitazioni nucleari russe, USA, nessuna allarme, è routine, poi fisco, la disfira, del contante, tetto, adesso spostato, a 10 mila euro, dal manifesto, diamo uno sguardo, anche al quotidiano economico, del sole 24 ore, Priolo, 40 giorni, poi la raffineria chiude, impianto, Versalice, di Eni, a rischio, l'effetto, delle sanzioni, entro il 5 dicembre, l'ultima nave di petrolio russo, nel porto, di Augusta, e poi lo stop, al sito, Lucoil, coinvolge, 3 mila lavoratori, l'area, vale 10 mila, addetti, allarme europeo, poi alluminio, no ad embargo, dalla Russia, sarebbe la crisi, ancora sempre nel taglio laterale, Meloni, aumenterà il tetto al contante, verso i 3 mila euro, la fiducia al Senato, Renzi, pronti a dare una mano, Berlusconi, priorità, fisco e giustizia, poi nel centropagina, la denuncia di Open Fiber, PNRR, mancano 16 mila tecnici, per i progetti, TLC, nel taglio laterale, poi ancora un riferimento, alla guerra in Ucraina, il conflitto in Europa, Putin testa i missili nucleari, rischio di una guerra mondiale, dal sole 24 ore, diamo lo sguardo, anche al quotidiano sportivo, della Gazzetta dello Sport, tutto concentrato, sulle sfide di Champions, un pieno di Inter, Dzeko affonda il Pilsen, Lukaku torna a segnare, festa nera azzurra, Inzaghi passa da secondo, poi anche il Napoli, altri tre gol, ai Ranger Glasgow, il Napoli fa 5 su 5, Simeone Sciore, e Liverpool per il primato, poi ancora le altre notizie, Juventus, chi rischia e chi arriva, crisi bianconera, tra rinforzi come Milinkovic, e il futuro di Agnelli, nel taglio laterale, invece Pioli, missere Euro, così il Milan migliora in Champions, e anche nei conti, nel taglio laterale, poi ancora Europa League, a Helsinki, con il Milz-Gelland, Roma e Lazio, serve vincere per restare in corsa. Prima di salutarci, diamo uno sguardo anche al nostro palinsesto, alle ore 11 Paese Mio, alle 12.30 Camminando Molise, alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle ore 16 Punto Verde, alle 17.30 Camminando Molise, alle 19.30 torna la nostra informazione con il telegiornale, alle ore 20 Salus TV, alle 21 Molise Sport, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, io vi ringrazio per averci seguito, a tutti voi auguro un buon proseguimento di giornata. La notizia città, al-